Assessore Garavaglia, il debito pubblico continua ad aumentare in Italia, perché? Beh, per una cosa banale e semplice che però purtroppo sfugge anche al buon senso. Il debito aumenta se le entrate sono inferiori alle uscite e purtroppo il buco c'è, il buco entrate e uscite è di circa 40-45 miliardi e quindi il debito continua ad aumentare. Adesso siamo sopra i 2.100. Il problema è che il governo, il Parlamento, tutti tranne la Lega Nord, tutti, hanno approvato il cosiddetto Fiscal Compact. Cosa prevede il Fiscal Compact? Prevede che ogni anno per 20 anni tu devi ridurre il debito pubblico, adesso è di 2.100, fino a farlo arrivare al 60% del PIL. Tradotto in soldoni, lo devi ridurre di 50-55 miliardi all'anno per 20 anni. Qual è il problema? Che però prima di riuscire a ridurlo non devi farne di nuovo e quindi devi prima tappare il buco e quindi trovare 55 per ridurre il debito di un ventesimo e 45 per tappare il buco, non farne di nuovo. 100 miliardi di euro, domanda stupida. Visto che non abbiamo trovato, che ne so, un miliardo per ridurre l'incremento dell'IVA, per evitare l'incremento dell'IVA di soli tre mesi, non si è trovato quel miliardo. Dove ne troviamo 100? Questo è il mistero e Renzi su questo non dice nulla. Ecco, tra l'altro Renzi ha fatto delle proposte, qual è la sua idea di economista? Beh, sono proposte che già giravano, non c'è niente di nuovo. Insomma, è un po' di folklore, di propaganda, ci sta. In questa fase di movimentismo Renzi si fa vedere con tante idee che però, alla fine, gratta gratta, non hanno molto di concreto. Tant'è che le uniche vere che vengono portate avanti sono quelle gratis, per modo di dire. Quindi, ad esempio, il matrimonio gay, quello non costa, problema loro, lo facciam pure. O pure le modifiche sulla legge dell'immigrazione, quelle in realtà hanno un costo indotto. Ecco, il movimentismo si lega a questo, al fatto che non ci siano delle proposte serie su dove trovare i soldi. Ecco, c'è chi dice che in questo momento di crisi fare l'assessore all'economia di una regione anche importante come quella Lombarda sia uno dei lavori più difficili. Sicuramente non è facile far quadrare i conti, però, nonostante a Roma abbiano dato un taglio pesantissimo alla regione Lombardia, 300 milioni di euro, siamo riusciti, ad esempio, a togliere il ticket per 800 mila persone, quasi un milione di persone, in più non pagheranno il ticket, in più, perché già abbiamo mantenuto queste esenzioni che c'erano incrementandole. Quindi è difficile, ma si può e si può fare anche bene, grazie a una squadra forte guidata da un fortissimo Roberto Maroni.